E a me fai video caffè ti ricordiamo è sempre piaciuto Ma dai Allora stamattina prima che l'Italia diventa tutta zona rossa siamo venuti a fare un giretto e anche se a Fabriano sembrava una giornata un po' uggiosetta praticamente siamo venuti a trovare il sole La soppresetta è questa Eccoci qua Sei carico? C'è anche Paolo Guarda il Morrison come va Guarda sotto e porto Guarda è entrata Maria Dona Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora praticamente dobbiamo fare un caffettino, però mi sa che con sto vento il caffettino lo prendiamo al bar, anzi manca il bar lo prendiamo che zona arancione. Grazie a tutti. 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 Allora... Allora... Andiamo a mezzo alla nebbia. Eccola la... Eccola la... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.